Noi con l'Italia sarà presente nelle liste della coalizione del centro-estero e sarà presente con una proposta molto chiara e molto netta. Riportare nel centro-destra la serietà, la competenza, la credibilità, la concretezza. L'idea che dobbiamo presentarci agli elettori come coalizione di governo che governerà l'Italia del 2027. E credo che alla coalizione di centro-estero serva questo tipo di proposta politica. Siamo in campo, lo siamo perché vogliamo bene a questo paese, dal nord come al sud. E questa è la sfida che portiamo. La vostra è una proposta di un centro-destra moderato. Siete la parte più moderata del centro-destra. Essere moderati vuol dire avere non solo le idee chiare, ma sapere che la politica è mettersi al servizio della propria comunità, mettersi al servizio dei cittadini. Essere moderati vuol dire capire che il protagonista di una società dell'Italia sono i cittadini e che lo Stato si mette al servizio dei cittadini. E quindi vuol dire capire, per esempio, e dare risposte molto concrete a dei giovani che hanno il diritto di costruire il futuro, ma non li si possono aiutare con l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza. Ma capire che l'equità sociale avviene attraverso il benessere. Il benessere lo danno le imprese. Per cui se un'impresa vuole dare 200 euro di aumento in un momento come questo a un suo dipendente ne deve pagare 540. Quindi le risorse mettiamole per azzerare le tasse del cuneo fiscale e dare tutte queste risorse agli operai.